Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui su ITSupport, io sono Doc e nel video di oggi parleremo di una tecnologia paradossalmente poco conosciuta e direi anche sottovalutata per certi versi, ma che in realtà nasconde enormi potenzialità, quella del powerline. Ma prima di cominciare, come sempre, se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social, link in descrizione e ad iscrivervi al canale, non dimenticando di attivare la campanellina delle notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Anzitutto, che cos'è il powerline? A livello tecnico, prendendo ad esempio uno dei tanti manuali presenti online, possiamo dire che essa è una tecnologia utilizzata per la trasmissione di voce o dati attraverso la rete di alimentazione elettrica. Si realizza, sovrapponendo al trasporto di corrente elettrica, punto, continua o alternata, un segnale a frequenza più elevata che è modulato direttamente dall'informazione da trasmettere e la separazione dei due tipi di corrente si effettua grazie al filtraggio e alla separazione degli intervalli di frequenza utilizzate. Chiaro, no? E volendo tradurre questa frase che abbiamo appena letto in un linguaggio più comprensibile, possiamo dire che quella del powerline è una tecnologia che permette il trasferimento di svariate tipologie di dati attraverso la corrente elettrica, punto. Ma perché dovreste utilizzarla? Facciamo l'esempio che in casa vostra il modem, apparecchiatura della quale abbiamo già ampiamente parlato in uno dei precedenti video, che se non avete ancora visto vi lascio linkato qui sotto così da provvedere il prima possibile, si trovi, come spesso accade, posizionato vicino alla porta d'ingresso di casa vostra e che voi dobbiate collegare ad internet un computer o un qualsiasi altro dispositivo privo di wifi che si trova in un'altra stanza. Come fate? Stendete un cavo di rete lungo x metri per collegarli alla meno peggio? Direi proprio di no, a meno che non vogliate ricreare il set di jump in nel vostro salotto. E analogamente nel caso in cui non possedeste le competenze o non sia effettivamente possibile far scorrere una serie di cavi ethernet all'interno delle cannaline già presenti in casa vostra, l'unica soluzione che vi resta è quella di affidarvi a lui, un powerline. In commercio ne esistono svariate tipologie che differiscono ovviamente per marca, modello e quindi estetica, ma in linea di massima tutte condividono il medesimo setup che definirei di una semplicità quasi disarmante. Nel momento in cui andrete ad acquistare una powerline via cavo come quella che ho in mano io, perché ce ne sono di tipologie diverse che tratteremo tra l'altro tra pochi minuti, vi ritroverete con due scatolotti di queste dimensioni, identici tra di loro nelle fattezze e nelle dimensioni e anche per quanto riguarda il funzionamento, dotato ognuno di una porta ethernet sul fondo o su di un fianco secondo le modelle che avete scelto e di un pulsantino, un solo pulsantino. L'installazione poi è come vi racconto adesso e vi accorgerete che è di una semplicità veramente disarmante. Dovrete prendere il cavo ethernet presente all'interno della scatola, quindi l'unico cavo presente all'interno della scatola, collegarlo alla porta ethernet presente sotto lo scatolotto e l'altro capo collegarlo direttamente ad una delle porte presenti dietro al vostro modem, quindi all'apparecchio che vi emette il wifi di casa e collegare subito dopo lo scatolotto direttamente ad una presa di corrente. Seguentemente prendete il secondo scatolotto che abbiamo lasciato da parte, andate nella stanza, nella cantina, nel garage, nella soffitta che volete sia raggiunta da internet e collegatelo in una presa di corrente. Dopodiché sfruttando un altro cavo ethernet collegatelo nella medesima porta di prima e andate ad inserirlo nel computer o nel dispositivo che vi interessa. A questo punto il grosso è già fatto, l'unica cosa che manca da fare è abbinarli l'uno con l'altro, far sì che si parlino, che si trovino all'interno della rete elettrica di casa vostra. E come fare? Semplicemente premendo l'unico pulsante che vi avevo detto prima essere presente sulla carcassa di questi powerline. ossia si preme quello che abbiamo davanti, quindi del ricevitore diciamo, lo si preme e nell'arco di mi sembra due minuti dovete andare a fare lo stesso nel scatolotto che avete lasciato attaccato al modem e a meno che voi non abitiate a Versailles dovreste farsela senza nessun tipo di problema. Questa semplice procedura permetterà ai due scatolotti di trovarsi all'interno della rete elettrica di casa vostra e di connettersi l'uno all'altro. Se poi avrete acquistato un kit powerline compreso di led di stato come quelli che abbiamo utilizzato nel tutorial di poc'anzi, saranno gli scatolotti stessi ad indicarvi se la connessione sarà andata o meno a buon fine con l'accensione o lo spegnimento delle luci medesime. E per quanto i più tecnici tra voi me ne vorranno a male, essendo questo un video rivolto ad un pubblico più che mai eterogeneo, per rendere la questione facilmente comprensibile a tutti durante questo video mi limiterò a suddividere i powerline in due sole categorie, quelli ethernet e quelli wifi. Quelli facenti parte della prima categoria, ossia quella dei powerline ethernet, mamma mia ho già ripetuto la stessa parola tante di quelle volte che mi sta venendo il bollet a stomaco. Dicevamo, quelli facenti parte della prima categoria, ossia quella dei powerline ethernet, sono in grado, come suggerisce il nome, di estendere solo ed esclusivamente la linea via cavo e sono fatti esattamente in questo modo, ossia come quelli che abbiamo utilizzato durante il tutorial di poc'anzi. Diversamente per quanto riguarda i powerline facenti parte della seconda categoria, ossia quella relativa ai powerline wifi, essi sono in grado di estendere oltre che la connessione via wifi, in quanto come potete vedere uno dei due scatolotti presenta dimensioni nettamente più abbondanti rispetto al principale, che è quello che dovremo collegare nel caso al modem, in quanto questo è a tutti gli effetti un emettitore di segnale. E prima che ve lo possiate domandare, l'utilizzo di una piuttosto che dell'altra categoria dipende esclusivamente dalle vostre necessità. Mi spiego meglio, nell'esempio che abbiamo fatto a inizio video si era posta la questione di dover collegare ad internet un solo ed unico dispositivo privo di wifi ad internet. Di conseguenza in questo caso l'impiego di una powerline di tipo wifi sarebbe stato sprecato, nel senso che sarebbe bastato appunto utilizzare una powerline di tipo ethernet per collegare quell'unico dispositivo con un solo cavo ethernet. Diversamente, nel caso tra l'altro non troppo ipotetico in cui il wifi di casa vostra non riesca a raggiungere ogni angolo di quest'ultima perché ad esempio è dislocata su più piani oppure anche solo è vecchia come costruzione e quindi i muri sono molto spessi e bloccano in parte il segnale wifi, la scelta di una powerline di tipo wifi sarebbe sicuramente la migliore perché vi permetterebbe di creare un secondo emettitore wifi che andrebbe a coprire le zone diciamo buie non raggiunte dal segnale principale. O ancora, come nel mio caso, che avevo la necessità di portare internet in un garage situato due piani sotto di me, quindi in un interrato già di base non raggiunto dal segnale wifi principale di casa mia. Ecco, in questo caso l'impiego di un powerline wifi c'è stato come il cacio sui maccheroni. Mi sta venendo fame. Ma veniamo ora a parlare delle problematiche che questo tipo di tecnologia porta con sé, anche se in realtà definirle problematiche non è particolarmente corretto, in quanto si tratta puramente di una serie di linee guida che servono per sfruttare al 100% il potenziale di questo genere di dispositivi. Il primo è di certo quello legato alla comunicazione tra gli scatolotti, ossia che per far sì che queste riescano a trovarsi correttamente all'interno dell'impianto elettrico di casa vostra e stabilire quindi una connessione tra di loro, è più che mai obbligatorio che vengano sistemati sotto il medesimo contattore elettrico, pena l'impossibilità appunto di collegarli l'uno con l'altro. In altre parole, nell'ipotesi in cui voi abitaste in un condominio e per i più disparati motivi voleste portare internet dal vostro vicino di pianerottolo, non potreste farlo mediante una powerline né ethernet né wifi, in quanto in questo caso i contattori elettrici sarebbero due, il vostro e quello del vicino. Ciò non di meno però anche la qualità dell'impianto elettrico stesso fa la differenza, in quanto nel caso in cui questo sia deteriorato o logoro dagli anni magari di utilizzo, si potrebbero incorrere in problematiche di connessione, quali ad esempio un rallentamento della linea financo proprio a un'impossibilità di collegare tra di loro questi dispositivi. Di conseguenza, mio consiglio personale, nel caso abitiate voi in una palazzina o comunque in un edificio che risale agli anni 90 o addirittura prima, prima di acquistare questo genere di dispositivi vi consiglio caldamente di verificare lo stato e la qualità del vostro impianto elettrico, perché nel caso in cui questo fosse quasi impossibile, ma nel caso in cui fosse questo l'originale risalente al tempo della costruzione dell'edificio, con quasi totale sicurezza non riuscireste mai a collegare un powerline e quindi sarebbero soltanto soldi buttati. In secondo luogo è estremamente consigliato, anche se non obbligatorio, collegare questi scatolotti direttamente ad una presa muro, quindi senza avvalersi di ciabatte elettriche o multiprese del caso, perché, come abbiamo spiegato poi all'inizio anche del video, questo genere di dispositivi lavora mediante una serie di frequenze, per cui potrebbe, non è detto ma potrebbe accadere che le frequenze dei dispositivi collegati alla medesima ciabatta vadano a creare delle interferenze con quelle del powerline, creando proprio dei cali della qualità della linea, affinando anche in questo caso ad un'impossibilità di farli funzionare correttamente. E qui apro e chiudo una parentesi, perché qualcuno di voi giustamente mi potrebbe dire «Madoc, scusami, io non ho una presa libera a muro direttamente di fianco al modem, per cui come faccio?». Banalmente potete seguire due vie diverse. La prima ve ne fregate altamente ed installate comunque lo scatolotto principale o quello secondario in una ciabatta o multipresa del caso, nonostante vi abbia appena detto che non si deve fare. Questo per il semplice fatto che non è appunto una regola scritta, bensì è diciamo un modus operandi consigliato, perché appunto si vanno ad evitare possibili interferenze. E questo ve lo dico per il semplice fatto che tipo mi sembra un anno fa sono andata a installare un computer a casa di un mio collega, il quale per una serie di motivazioni che non sto qui a raccontarvi è stato costretto ad utilizzare una powerline Ethernet per collegare appunto il suo computer ad internet. Il problema però secondario qual era? Che vicino al modem c'era una sola presa elettrica libera, al quale era già collegata una ciabatta, dove a sua volta erano collegati il modem stesso, una stampante e mi sembra una luce o qualcosa del genere. Ovviamente qual è il problema? Io avrei dovuto smontare tutte le prese, aggiungere un frutto in più o direttamente proprio smurare e aggiungere una nuova cassetta. Capite anche voi che è ingombrante, problematico e soprattutto dispendioso in termini di tempo ed energia. Di conseguenza abbiamo fatto la prova, ossia abbiamo collegato direttamente lo scatotto alla ciabatta. Non ci sono stati problemi né allora né ora e funziona perfettamente da mi sembra sei o sette mesi tranquillamente. Quindi vi ribadisco quanto vi ho detto prima, non è una regola ferrea matematica, ma è diciamo un buon modo di agire. Quindi se potete scegliere tra una presa diretta a muro e una ciabatta preferite la presa diretta a muro. Ma per quanto riguarda invece la seconda alternativa, che sarebbe quella da preferire, potreste scegliere di utilizzare una powerline cosiddetta passante, ossia dotata, come potete vedere qui nell'immagine, di una presa maschio femmina che le permette di essere installata a monte della ciabatta, quindi direttamente nella presa a muro e fungere come femmina per l'attacco della ciabatta, di modo da non subire alcun tipo di interferenza da parte degli altri dispositivi. Per quanto riguarda invece il terzo ed ultimo problema, anche se in questo caso parlare di problema è veramente totalmente sbagliato perché si tratta puramente di un ovvio e banale ragionamento che però è importante specificare, ed uo può fare una doverosa premessa che in realtà mi ero dimenticato di fare prima. Ossia che più o meno tutti i kit powerline possono all'occorrenza non essere limitati a due soli scatolotti, bensì se ne possono aggiungere un terzo, un quarto, un quinto e così via, i quali faranno sempre e comunque capo al principale che è collegato appunto, come ricorderete bene, al modem. Detto ciò, il terzo problema del quale vi ho fatto presente poc'anzi riguarda la compatibilità, in quanto nell'ipotesi in cui si volesse aggiungere anche in futuro un terzo, quarto, quinto appunto scatolotto ai due già presenti in casa nostra, bisognerebbe mantenere lo stesso tipo di modello e di marca, per il semplice fatto che se no si avrebbero la quasi totale certezza dell'impossibilità di collegarli tra di loro. Ma come ho detto questo non è realmente un problema, è puramente un ragionamento ovvio e scontato delle due. E prima di arrivare alla conclusione pratica di questo video, l'ultima chicca che ci tengo a condividere con voi riguarda proprio il lato della gestione di questi kit powerline, ossia che al giorno d'oggi quasi tutti possono essere comandati o comunque gestiti, monitorati attraverso un'app proprietaria, quindi creata dallo stesso produttore del powerline stesso, o anche attraverso una pagina web che permette di vedere quanti dispositivi sono connessi, qual è la velocità di rete, modificare eventualmente il nome, la password e via discorrendo. E in realtà in relazione a quest'argomento ci sarebbe anche un'altra questione importantissima della quale parlare, ossia quella legata alla velocità, stabilità e potenza del segnale emesso da questi powerline. Ma essendo quest'ultimo un argomento inerente alla questione connessioni di rete, argomento delle quali stiamo già parlando all'interno della rubrica reti ed internet che vi lascio linkata qui sotto in bio nel caso ve la siate persa, preferisco terminare qui oggi ed approfondire la questione durante uno dei prossimi video che usciranno in relazione alla suscitata rubrica. Per il momento quindi facendo un sunto dell'episodio di oggi vi basti sapere che di powerline in commercio ne esistono veramente tantissimi che differiscono per marca, modello, grandezza estetica, potenza, capacità e stabilità del segnale. Ma quali che siano e come funzionano queste ultime lo scoprirete soltanto guardando i prossimi episodi. Titoli di Coda io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto ascoltandomi spero con interesse e augurandomi vivamente che non ce l'abbiate con me per questo cliffhanger inaspettato. Se il video vi è piaciuto vi invito come sempre a spolliciarlo prima di andare via e lasciare un commento qui sotto facendomi sapere che cosa ne pensate. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.